E' uscito il mio primo videocorso per DJ. Ne abbiamo parlato un po' di tempo fa qui su questo canale e adesso finalmente è online. Dopo la sigla un piccolo estratto dell'introduzione del corso e poi alcune informazioni che potrebbero essere utili per te. Ciao e benvenuto al primo corso per DJ. Il corso è realizzato in esclusiva per Docety, la piattaforma di formazione online più interessante del momento. In questo corso parleremo di tutti gli aspetti legati alla figura del DJ, la musica, la tecnica, la costruzione di un set e anche la costruzione di un personaggio vero e proprio. E' un corso base a cui seguiranno poi alcuni approfondimenti specifici. Io sono DJ Nejo, sono attivo nel campo da quasi 20 anni con esperienze di vario tipo, eventi, serate, club e quant'altro. E ho un'esperienza anche di oltre 10 anni nella formazione, quindi ho fatto vari corsi per DJ con classi di tutti i tipi. E quindi cercherò di portare questa mia esperienza per la prima volta in un videocorso. Il corso è strutturato in lezioni, in ogni lezione approfondiremo un argomento specifico e al termine di ogni lezione ci sarà un esercizio. Questo videocorso potrà essere visto tutto insieme dall'inizio alla fine oppure potrai stoppare al termine di ogni lezione per cercare di assimilare l'esercizio. Essendo appunto l'esperienza di un corso nel quale si svolgevano una lezione a settimana, molto spesso io davo ai ragazzi degli argomenti da approfondire o anche degli esercizi da fare e quindi potresti anche tu prendere il tempo necessario tra lezione e lezione per assimilare ed interiorizzare bene il concetto. Oppure te lo puoi guardare tutto assieme, come preferisci. Il corso è disponibile su Docety. Docety è una piattaforma di formazione online nel quale si possono mettere corsi, seminari e lezioni individuali, sempre ovviamente virtuali. È uno spazio che io utilizzo per poter entrare in contatto diretto con chi mi segue perché c'è la possibilità di una mezz'ora gratuita. È il modo che io scelgo per dare delle risposte in maniera più approfondita a delle domande anche perché per fortuna iniziano a scrivermi in tanti e allora ho intenzione di concedere a ognuno il proprio spazio. Il videocorso è il modo migliore secondo me per dare l'infarinatura di base per poter fare musica di qualsiasi tipo, di qualsiasi genere e con qualsiasi strumentazione. Con questo corso ci sono tutti gli elementi per poter iniziare a fare il DJ. Oltretutto rimango sempre a disposizione per qualsiasi tipo di domanda, di approfondimento, di richiesta ulteriore e anche per entrare ancora più nel vivo di certi argomenti. Allego in descrizione il link per il videocorso e cliccando su me come coach c'è la possibilità di fissare e di concordare una lezione gratuita per conoscerci anche prima di per chi volesse effettuare l'acquisto anche per fare tutte le domande necessarie. Sono felice di poter annunciare questa novità, di poter rendere disponibile per tutti con un costo di 67 euro perché va in crediti, che però ci sono via nel tempo alcuni sconti che metto a disposizione per chi mi segue. Quindi anche per questo ti chiederei di contattarmi in modo tale da verificare la situazione se fosse possibile appunto avere un coupon speciale. Fammi sapere cosa ne pensi e ci vediamo qui su youtube oppure su docenti